Settembre è il mese dell'assegnazione degli IG Nobel e anche quest'anno non sono mancate le scoperte che hanno fatto. Divertire e magari poi anche un po' riflettere. L'anno scorso abbiamo parlato di coltelli fatti con feci umane, quest'anno invece parleremo di pedoni, gatti, fonetica. Per scoprire quali sono i vincitori degli IG Nobel 2021, ci vediamo dopo la sigla. Beh vedi questo nuovo video di fisica in pillole. La settimana scorsa sono stati assegnati i premi IG Nobel 2021, ovvero quelle ricerche che fanno un po' ridere ma che allo stesso tempo fanno riflettere dopo averti strappato una risata. Questo anno il premio IG Nobel per la fisica è andato ad un team tutto italiano che ha studiato la dinamica dei pedoni e non quelli sulla scacchiera, ma ha studiato la dinamica delle persone che camminano per la strada e il premio è stato assegnato per la ricerca sul perché i pedoni non si scontrano costantemente. Quello che ha fatto il team è stato studiare la dinamica dei singoli pedoni e trovare un'espressione matematica che descriva il loro movimento. Quello che hanno visto è che la dinamica del pedone dipende ovviamente da diversi fattori, per esempio la folla che c'è intorno, il luogo dove stanno camminando i pedoni, per esempio in una stazione ferroviaria dove quindi magari c'è chi va più veloce per non perdere il treno e così via. La cosa essenziale è che i pedoni cambiano costantemente il loro percorso per adattarsi a quello che gli accade intorno e che adatta il proprio percorso per evitare gli altri pedoni. Questo può sembrare banale ma in realtà avere un'espressione matematica di quello che succede ad un pedone quando cammina è essenziale per tantissime cose. Per esempio vogliamo costruire una nuova stazione ferroviaria, dobbiamo sapere come si muovono le persone all'interno di una stazione ferroviaria per costruirla al meglio, per evitare incidenti, per agevolare il pedone e la sua esperienza all'interno della stazione ferroviaria, oppure per evitare code in luoghi affollati. Quindi l'obiettivo di questo studio è quello di migliorare le infrastrutture tenendo conto di come si muovono i pedoni. Uno studio simile ma in realtà complementare a questo è stato vincitore della sezione IG Nobel 2021 per la cinetica in cui un team di ricercatori, stavolta giapponese, ha studiato sempre il moto dei pedoni ma ha studiato la loro cinetica. La dicitura per il premio 2021 per questo gruppo di ricercatori è stato lo studio per i pedoni e sul perché a volte si scontrano tra di loro, mentre nell'altro caso era perché non si scontrano costantemente. Quindi da qui possiamo notare la prima differenza tra i due studi. Quello che è stato notato da questo team di ricercatori giapponesi, quello che è stato notato da questo team di ricercatori di un'università giapponese, è che i pedoni comunicano tra di loro in maniera non verbale. Grazie alla comunicazione non verbale riescono a capire dove sta andando il pedone che ci si trova davanti e quindi cambiare la propria traiettoria a seconda della traiettoria dell'altro pedone. Questo studio è stato fatto studiando due folle di pedoni che andavano nella direzione opposta. Quello che è stato notato è che si creano dei flussi unidirezionali e che la cosa principale, come vi dicevo prima, è la comunicazione non verbale che avviene tra i pedoni. E' per questo che quando siamo distratti al telefono, può sembrare banale, ma ci scontriamo più spesso con altre persone. Questo succede perché nel momento in cui siamo distratti dal telefono non riusciamo più a percepire la comunicazione non verbale degli altri esseri umani che ci sono intorno. Ed è per questo che ci scontriamo. Non perché magari non notiamo l'altra persona a causa del telefono, proprio non riusciamo più a dare attenzione alla comunicazione non verbale che è essenziale affinché non ci scontriamo con gli altri. Nonostante questo sia un canale in cui parliamo di fisica e affini, parliamo anche degli altri IG Nobel che meritano una menzione d'onore in questo video. Uno su tutti è quello per la biologia. Quest'anno il premio IG Nobel per la biologia è andato ad una ricercatrice svedese che si occupa di fonetica. La spiegazione di questo premio merita di essere letta e adesso capirete perché. La motivazione ufficiale del riconoscimento è per aver analizzato variazioni nel modo di fare fusa, cinguettare, chiacchierare, canticchiare, trillare, mormorare, miagolare, brontolare, squittire, sibilare, ululare, gemere, ringhiare e altri modi di comunicazione uomo-gatto. Per me il mio gatto ha sempre fatto solo miau. Evidentemente, quello che invece ha fatto la ricercatrice è stato riuscire a distinguere tutti i tipi di comunicazione linguistica e paralinguistica del gatto. E come dice la ricercatrice, ha unito le sue due grandi passioni, la fonetica, che è quello di cui si occupava per la ricerca, e i gatti. Un altro premio interessante che quest'anno è stato assegnato è stato quello per l'ecologia. Il premio per l'ecologia è andato ad un gruppo di ricercatori, spagnolo e israeliano, che ha studiato le gomme da masticare appiccicate un po' ovunque, quelle che trovate sotto i tavoli, sotto le sedie, negli autobus, un po' dovunque, no? A cosa potrà mai essere servita una cosa del genere? In realtà, uno studio apparentemente inutile, ma allo stesso tempo molto utile. Perché? Grazie a queste gomme, sono riusciti a vedere come proliferano i batteri su queste gomme da masticare. Sembra banale, ma questo studio potrebbe servire per lo studio di altre malattie. Perché conoscendo come si proliferano, come si evolvono i batteri sulle ciunghe, potrebbe essere utile per scoprire invece come evolvono alcune malattie. Un altro premio molto carino è stato quello per la chimica. Sono stati studiati i cinema. È un po' di tempo che non andiamo più al cinema, ma sono stati oggetto di questo studio per la chimica. Ovvero, questo team di ricercatori ha visto che tipi di odore si diffondono durante la visione di un film. I diversi odori che gli esseri umani diffondono nella sala potrebbe dare indicazione del tipo di film che stanno vedendo. Anche in questo caso vi leggo la motivazione, che è molto molto interessante. Il premio è andato al team di ricercatori per aver analizzato chimicamente aria all'interno delle sale cinematografiche per capire se gli odori prodotti dal pubblico possono segnalare in maniera affidabile i livelli di violenza, contenuti sessuali espliciti, comportamento antisociale, uso di droghe e linguaggio volgare nel film proiettato. In base agli odori quindi diffusi dagli esseri umani, si può capire che cosa sta avvenendo l'essere umano in quel momento. Questo potrebbe essere effettivamente utile anche al di fuori delle sale cinematografiche. Abbiamo visto non tutti i premi di quest'anno, ma la maggior parte. Noi ci vediamo in un prossimo video.